Chiedono attenzione e tutela i sanitari dell'ospedale di Nocera Inferiore dopo l'aggressione dell'altra sera. Chiedono attenzione e tutela perché dicono che è la sensazione più spiacevole sentirsi sotto tiro, sentirsi aditati come casta o peggio ancora come il nemico. Sentirsi in questo modo soprattutto quando si svolge una professione che è e resta profondamente una missione. In realtà questo episodio che è capitato alla collega è molto grave. Lo ritengo grave perché soprattutto sia per la brutalità con la quale si è consumato sia per la premeditazione. Perché aspettare un professionista al di fuori, perché uno potrebbe anche giustificare, non si giustifica tra virgolette il gesto istintivo momentaneo così che comunque non dovrebbe accadere. Ma la premeditazione effettivamente ci pone in una situazione di non tranquillità. La nostra professione purtroppo, la premessa per operare bene nell'interesse del paziente è quella della tranquillità e la serenità. Se noi non siamo sereni e tranquilli purtroppo possiamo commettere degli errori. Per quanto riguarda l'ospedale di Nocera c'è bisogno secondo me di un sistema di filtro un po' più efficace, preciso, perché si vedono entrare numerosissime persone. E' chiaro che l'habitat socioculturale della nostra zona non favorisce un andamento molto più corretto e tranquillo. Però effettivamente bisogna che si adottino delle strategie e dei meccanismi che possano tutelare gli ingressi e anche il nostro lavoro. E devo dire che i vertici aziendali in questo senso ci hanno dato ampie garanzie e stanno facendo di tutto per venire incontro ai professionisti e quindi all'utenza. E allora c'è necessità da parte di chi a fare qualcosa, aumentare i nostri sistemi di sicurezza che ormai sono lontani da essere sistemi di sicurezza d'avanguardia. Non possiamo dire aumentare la civiltà delle persone perché questo lo sappiamo, non è possibile, ma certo aumentare la sicurezza quello sì e soprattutto cercare in questo momento e utilizzando questo momento, che è un momento doloroso per tutti, di provare ad ottenere delle cose che stiamo cedendo da tempo. Abbiamo un drappato di polizia che funziona solamente se vuole la mattina, con un numero di prestazioni di 80.000 euro all'anno mi sembra assolutamente paradossale. Abbiamo dei sistemi di videosorvidanza che sono assolutamente vecchissimi, peraltro non funzionanti al meglio, non registrano, per cui in episodi come questi non abbiamo nessuna possibilità di prendere i responsabili e questo mi sembra gravissimo. Quanto fa male a un medico che svolge quella che è una missione, non lo dico romanticamente, ma perché così pensare che l'utenza possa puntargli contro l'indice accusatore come se lui fosse il nemico? Fa malissimo. Io conosco bene la professionalità di Antonella Sica e quindi so perfettamente che lei è una che si dedica veramente, adesso è il caso di l'anima e corpo, ai pazienti per cui un episodio del genere non me lo sarei mai aspettato. Magari una reazione verbale, quella può capitare a tutti e capita frequentemente, ma un episodio così grave non me lo sarei mai aspettato, per cui noi cominciamo a pensare anche alla nostra incolumità e preghiamo a chi questa nostra incolumità ce la deve salvaguardare di fare qualcosa.